Ammesso che ci fosse un quadro, è scomparsa la vernice, resta qualche cichatrice, pochi segni, superficie, la vernice intatta, vuota, al fine forma strada, stato di salute della scena, linea abbiata, quando la trama si slaccia, sta roba va cazzo, spodo pezzo per pezzo, si perdono cose preziose senza prezzo, flash complesso, fase in procedura, causa vittima, viste, instaura clima da paura pura, adesso dimmi che succede, guerra per le strade, pure un mio pevede, qua si procede tra un tot di Freud, alto distruzione, allarme rosso, a me il bel paese è il nucleo e nel sottosuolo un sindrome cinese, sono incontenti da nomi fluenti con nobili tenti, assurdo quanto ancora possano abbagliare, certi assi spessi, sono differenti mezzi per gli stessi fini, stessi tratti, percorsi, le truppe non intrini agli stessi destini, e chi quanto possa leggere, per sopportare dei pesi del genere, pressione che riduce in genere, leggere le pagine scritte, le frasi già dette, dover correggere e impostare nuove notte, stanotte, è freddo adesso il tempo sangra fermo, per svoltare l'alba può passare un inferno stanotte, e quelli che c'erano, fanno quel che devono, stanotte come tante sono cose che succedono adesso che qualsiasi pazzo ha un nome, quel che si oppone a tensione, è il paradiso in prezzi, gas, con dosi metadone, casi clinici, pressione ai poli opposti, voli scomposti ai minimi termini, simili a red di un ginocchio, cerchiamo oltre limiti ad un passo dal collasso, noti insonni, nel tentativo di ridurre i danni dimmi, com'è che adesso, vecchie strategie convincono, sei anni che spingono, insonni di quanto che finono, eroni sfeggio lasciati sul muro, mo' perfetto, dati e conferma di un piano, di cui ho previsto l'assetto, ha soffato l'effetto, dimmi le affronti anonimi smolla, mi mo' al morte, meno sbarbi, più uomini, c'è chi continua a sostinare, cercare l'ago nel pagliaio, c'è chi cerchi di svuotare il mare con cucchiaio, appuntamento a buio per tutti i tasti convalenti, pochi ne sono intatti, meglio stare zitti, costretti, smezio dai fatti, scelte con tre dette negli atti, lascia presa di raccordi, pacchi più smacchi, posizioni di comodo cambiano, in base a vetto, lasciano spazi vuoti dal perimetro al centro, sembra che manchi lo spessore che impone la differenza, l'ultima analisi, se regge la distanza, fai paralisi, tra le altre ipotesi è un drama che sta nascendo, fai cura il mono no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti